Ciao a tutti, bentornati nel corso di fotografia digitale per principianti, siamo alla ventiduesima lezione dove trattiamo l'esposizione creativa. Infatti un fotografo deve saper visualizzare il risultato finale prima di scattare la foto. Per poterlo fare deve avere compreso perfettamente il modo in cui la macchina registra la gamma tonale delle nostre scene. Macchine diverse saranno in grado di catturare una quantità di dettagli differente nelle ombre e nelle alte luci. Una macchina capace di mantenere la massima quantità di dettagli in entrambi, cioè nelle ombre e nelle alte luci, ha un'alta gamma dinamica, mentre una macchina dalla gamma dinamica bassa faticherà a mostrare dettagli al di fuori delle aree con luce piatta e a basso contrasto. Quindi cos'è la gamma tonale? La gamma tonale è la differenza tra la quantità minima e massima di luce riflessa dal soggetto. Una foto consiste infatti in un insieme di punti luci, punti luce, pixel con differenti livelli di luminosità che visti da una certa distanza formano un'immagine riconoscibile. I pixel più scuri e più chiari definiscono i punti d'inizio e fine della gamma tonale nella nostra immagine. La gamma tonale più ampia si estende dal nero delle ombre più scure al bianco degli alti toni più chiari, ma raramente si vede nella pratica. Il modo in cui una fotografia viene esposta determina la sua gamma tonale, ma questa può essere influenzata anche tramite un'illuminazione attenta e applicando tecniche precise durante lo scatto e in post-produzione. Quindi vediamo questi due grafici, dove qui abbiamo gli alti toni e da questa parte i bassi toni, quindi sui neri. Nella parte centrale abbiamo i toni medi. Questo non è altro che la rappresentazione dell'istogramma di una fotografia che possiamo visualizzare sul display delle nostre macchine fotografiche. Questo grafico ci fa capire come si distribuiscono le luci sulla nostra fotografia. Se queste curve fossero tutte sulla sinistra e qui sulla destra andassero diminuendo, avremmo una fotografia in low-key, quindi sui toni neri. Mentre, al contrario, se queste curve fossero concentrate tutte sulla destra, quindi sulle alte luci, avremmo una foto in high-key, quindi più che altro colori bianchi, diciamo, luci bianche, prevalenza di luci bianche. Quindi, questo è un esempio, una foto con esposizione in low-key, dove principalmente vediamo la concentrazione di bassi toni, quindi ombre. Mentre nella prossima slide vediamo questa è una foto con esposizione in high-key, quindi prevalenza di luci bianche. Una foto in cui i toni scuri sono predominanti è detta, come già detto, low-key. Puoi sottoesporre un'immagine per renderla low-key, ma è meglio utilizzare una sola fonte di luce in combinazione con uno snoot o una griglia, di cui abbiamo già parlato in una precedente lezione, per direzionare quindi la luce. Mentre nel caso di foto in high-key, si ottiene aumentando la luminosità delle ombre usando un'illuminazione supplementare. Cos'è la tecnica HDR, High Dynamic Range? Allora, scattando in una situazione di forte contrasto, non sempre è possibile impostare un'esposizione che registri abbastanza dettagli, sia nelle ombre che nelle alte luci. La tecnica, chiamata High Dynamic Range, supera questa limitazione. Per creare un'immagine in HDR, dobbiamo scattare tre o più foto, variando l'esposizione tra l'una e l'altra. Almeno una foto dovrebbe essere esposta per rilevare i dettagli delle ombre, una per i mezzi toni e una per le alte luci. Devi quindi poi fondere queste immagini o direttamente nella macchina fotografica o in post-produzione per ottenere una singola foto con la gamma tonale più ampia possibile. Il risultato può essere naturale o pesantemente processato, dipende dalle nostre intenzioni. Questa fotografia ne è un esempio. Sono state scattate per produrre questa immagine finale quattro fotografie. Alcune sovraesposte per riportare le alte luci sulla parte inferiore e altre sottoesposte per diminuire le luci nella parte superiore. Tutte sono state fuse in un'unica immagine ottenendo questo risultato. Anche per questa breve lezione è tutto. Ci vediamo nella prossima lezione dove tratteremo come si fondono foto diverse tra loro in un'unica immagine finale. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione.